I vecchi e decadenti locali che ospitavano la macelleria e la pescheria del mercato coperto di Piazza Verdi a Teramo saranno finalmente rinnovati e riqualificati. Si chiama SPACE ed è un progetto innovativo di interesse culturale che coinvolgerà il mondo giovanile. Sarà un centro sperimentale di linguaggi artistici contemporanei, di partecipazione e produzione. Approvato nell'agosto del 2019 dalla Giunta Municipale Teramana, la riqualificazione sarà finanziata da Anci e Presidenza del Consiglio dei Ministri con 309.000 euro. Questo progetto prevede la riqualificazione di un ambiente che è quello dell'ex mercato coperto, nei locali che ospitavano la ex macelleria e la ex pescheria, proprio lì in un ambiente, proprio nel centro storico della nostra città e avrà come obiettivo e come idea insita proprio nel progetto quello di essere uno spazio a disposizione proprio degli artisti, delle associazioni culturali gestito da soggetti, persone, associazioni che poi parteciperanno agli avvisi pubblici che a seguito dell'approvazione del progetto saranno poi emanati. Il mercato coperto di Piazza Verdi ha rappresentato e rappresenta una spina nel fianco per ogni amministrazione comunale. Brutto, fatiscente e sporco, l'immobile è situato in pieno centro storico di Teramo, tra l'antico conservatorio musicale e il teatro romano. Ristrutturarlo è un obiettivo urbanistico fondamentale, da centrare ad ogni costo. Tutto il resto dello spazio è insito in un'idea progettuale più ampia di riqualificazione complessiva e generale dei locali. Abbiamo individuato questi due locali, perché erano i due locali anche agibili e quindi immediatamente disponibili e pronti all'uso nell'eventualità appunto del finanziamento del bando. Ovviamente tutto poi si sposerà con una riqualificazione più ampia di tutto lo spazio. Grazie. Grazie.